Carlo Pisacane, il rivoluzionario dimenticato Carlo Pisacane, duca di San Giovanni, è una figura storica che merita di essere ricordata non solo per il suo coraggio e la sua dedizione alla causa, dell'unità italiana, ma anche per le sue idee progressiste che lo hanno reso uno dei primi teorici del socialismo in Italia. Nato a Napoli il 22 agosto 1818, Pisacane crebbe in una famiglia aristocratica decaduta. La sua educazione militare iniziò presto, all'età di 12 anni, presso la scuola militare di San Giovanni a Carbonara e successivamente al collegio militare dell'Annunziatella. Questi anni formativi furono cruciali per lo sviluppo del suo pensiero politico e sociale. Durante la sua vita, Pisacane fu testimone di numerosi eventi rivoluzionari in Europa, tra cui la rivoluzione francese del 1848 e la prima guerra d'indipendenza italiana. Fu un sostenitore della Repubblica Romana e combatté al fianco di figure come Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi. Tuttavia, è la sua spedizione nel Regno delle Due Sicilie nel 1857 che lo ha reso celebre, sebbene sia stata un fallimento. Con soli 24 compagni, Pisacane sbarcò a Sapri con l'intento di scatenare una rivolta popolare contro il governo borbonico. La sua propaganda del fatto era basata sulla convinzione che un'azione diretta avrebbe ispirato il popolo a ribellarsi. La spedizione si concluse tragicamente a Sanza, dove Pisacane e i suoi compagni furono catturati e uccisi. La loro morte non fu vana. L'eroismo di Pisacane e dei suoi uomini ispirò la celebre poesia di Luigi Mercantini la spigolatrice di Sapri, che contribuì a mantenere viva la loro memoria. Pisacane era un uomo avanti rispetto al suo tempo, con idee che andavano oltre la semplice unificazione politica dell'Italia. Credeva nella priorità della questione sociale rispetto a quella politica e sosteneva un'ideologia socialista, libertaria e federalista. La sua visione di un'Italia federale e socialista contrastava con le idee centraliste e monarchiche di molti dei, suoi contemporanei. La sua vita e la sua morte sono un esempio di dedizione e sacrificio per i propri ideali. Carlo Pisacane rimane un simbolo dell'aspirazione alla libertà e alla giustizia sociale, un eroe la cui storia merita di essere raccontata e ricordata. Il valore politico e morale della spedizione fallita La spedizione di Pisacane non fu solo un tentativo di rivoluzione militare, ma anche un atto di sfida morale contro un regime oppressivo. La sua azione diretta era intesa come un catalizzatore per il cambiamento, un modo per dimostrare che era possibile opporsi attivamente all'ingiustizia. Nonostante il fallimento immediato, la spedizione di Pisacane ebbe un impatto significativo sul movimento risorgimentale italiano. Dimostrò che era possibile resistere e che anche il più piccolo degli atti poteva ispirare una nazione intera. La sua eredità vive nella storia d'Italia come un promemoria del potere dell'azione individuale e collettiva, nella lotta per la libertà. In conclusione, Carlo Pisacane è stato un uomo di grande coraggio e visione, la cui vita e la cui morte continuano a ispirare coloro che credono in un mondo più giusto e equo. La sua storia ci insegna che, anche di fronte all'insuccesso, le idee per cui si lotta possono sopravvivere. Carlo Pisacane, duca di San Giovanni, è stato un rivoluzionario e patriota italiano, di ideologia socialista libertaria e di orientamento federalista d'impronta prudoniana. La sua morte è avvenuta il 2 luglio 1857 a Sanza, nel regno delle due Sicilie. Pisacane aveva appena 39 anni quando perse la vita. Ecco alcuni dettagli sulla sua vita e la tragica fine. Studi militari e viaggi, Pisacane nacque a Napoli nel 1818 e crebbe in una famiglia aristocratica decaduta. Studiò presso la scuola militare di San Giovanni a Carbonara e successivamente al collegio militare dell'Annunziatella. Questi anni formativi influenzarono la sua personalità idealista e visionaria. Fallimento della Repubblica Romana, Pisacane partecipò attivamente all'impresa della Repubblica Romana, combattendo al fianco di figure come Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi, Goffredo Mameli e Giuseppe Garibaldi. Tuttavia, la Repubblica Romana fallì, e Pisacane continuò a cercare modi per promuovere la causa dell'unità italiana avvicinamento al socialismo, utopistico e libertario. Pisacane sviluppò idee socialiste libertari e divenne uno dei primi teorici del socialismo in Italia. Credeva nella priorità della questione sociale rispetto a quella politica. La spedizione e la morte, nel 1857, Pisacane guidò un tentativo di rivolta nel regno delle due Sicilie. Con soli 24 compagni, sbarcò a Sapri con l'intento di scatenare una rivolta popolare contro il governo borbonico. Tuttavia, la spedizione fu repressa nel sangue a Sanza, dove Pisacane e i suoi compagni furono catturati e uccisi. La sua morte fu un duro colpo per la causa dell'indipendenza italiana e il valore politico e morale della spedizione fallita. Nonostante il fallimento, la spedizione di Pisacane dimostrò che anche il più piccolo degli atti poteva ispirare una nazione intera. La sua eredità vive nella storia d'Italia come un promemoria del potere dell'azione individuale e collettiva. Nella lotta...